Il Cagliari è in grande crescita, l'hanno dimostrato le ultime prestazioni, le ultime vittorie che ha fatto anche se arriva da una sconfitta in Coppa e una sconfitta a Roma dove la squadra ha fatto bene. Quindi affrontiamo una squadra che lotta nei bassi fondi della classifica, che deve tirarsi fuori dalla lotta salvezza e quindi partite che temo sempre perché l'orgoglio di queste squadre è molto molto temibile e quindi dobbiamo cercare di avere molta molta attenzione. In più penso che non sia come la partita di Torino perché fino a 24 ore prima non si giocava, avevamo la testa al Napoli invece poi siamo stati costretti a partire, a presentarci a Torino e sapete tutti come è andato a finire. Quindi penso che sia molto diverso perché ci siamo preparati, abbiamo fatto quattro giorni bene e quindi ad oggi noi faremo la rifinitura, partiremo e cercheremo di fare una grande partita. Vlaovic arriva da un rigore sbagliato rimediato immediatamente durante una partita e arriva da una prestazione per me buona a parte il rigore, da una prestazione condita da un 6-0 dove la squadra ha fatto vedere grandi cose. Quindi solito Vlaovic, soliti discorsi e solite settimane che ci accompagnano da tanto tempo e per noi non cambia nulla. Quindi sinceramente ma vale per tutti gli allenatori questa sessione di mercato non si vede l'ora di vederla chiusa perché giocare nel mezzo del mercato è sempre una cosa complicata. Quindi è questo che mi sento di dire. Abbiamo fatto immediatamente quello che si pensava potesse dare qualità alla squadra con l'arrivo di Cone e Piontek e di questo ne sono convinto che abbiamo aggiunto tanto. Poi il mercato è aperto, la società, il direttore in primis ha ribadito che la volontà è quella di ascoltare chi ha meno minutaggio e quindi la linea è questa. Vedremo poi alla fine cosa accadrà e deve chiaramente poi alla chiusura del mercato esserci una Fiorentina che dovrà affrontare tutte le restanti partite convinta di poter far bene.